Buon di guarigioni sul territorio perinio sangrino alla vigilia delle riaperture ma il virus non si ferma. Ancora contagia a doppia cifra un'altra vittima sul registro covid. Non basterà un decreto insomma per debellare definitivamente la circolazione del coronavirus sul territorio. La curva epidemiologica regala tuttavia segnali di respiro a 48 ore dalla fine formale della pandemia. Sono 41 e nuovi casi in si è referto e netto calo rispetto alle 96 positività registrate ieri. Le odierne positività sono così distribuite. 21 a Sulmona, 5 a Pesca, Seroli, 3 ciascuno a Pratola, Peligni e Cassel di Sangro, 2 a Scanno. Un caso a testa per Roccaraso, Rocca Casale, Ateleta, Cocullo, Gagliano Aterno, Raiano, Pettorano, Surgizio, Corfinio e Vittorito. Sotto osservazione restano le strutture sensibili del territorio tra cui l'ospedale di Sulmona dove solo ieri sono state accertate tre nuove positività tra gli osse dei vari reparti. Non si registrano nuovi contagi a scuola. Ancora 24 ore il sistema scolastico potrà finalmente respirare in vista dell'allentamento delle misure a partire dal primo aprile. Complessivamente sono 1.265 gli attuali positivi sul territorio a fronte di ben 148 guarigioni messe a referto nelle ultime 48 ore. Un balzo notevole che fa besperare su una migliore gestione del covid tra poco più di 48 ore. Quando lo stato di emergenza sarà considerato chiuso, almeno sulla carta. In termini percentuali le negativizzazioni questa volta surclassano i nuovi casi. Scende pure il tasso di ospedalizzazione per via della copertura vaccinale pressoché totale sulla popolazione. Sono 12 gli attualmente degenti di cui 2 in terapia intensiva, così ripartiti, 7 in Valle Peligna di cui 2 in rianimazione, 5 in area medica e altri 5 in alto sangro, tutti in area medica. Nell'elenco si aggiungerà una donna trasportata questa mattina nelle malattie infettive dell'ospedale di Avezzano, dove aver contratto l'infezione verosimilmente nel reparto di medicina del nosocomio dell'Annunziata. Non manca purtroppo la nota dolente. Il virus continua a mietere vittime. Anche la vigilia delle riaperture è deceduto oggi Sergio Ciccarelli, 86 anni di Sulmona, apprezzato, stimato docente, in pensione. L'anziano è morto nell'ospedale Santissima Annunzia di Chieti, dove era stato ricoverato in seguito alle conseguenze dell'infezione da Covid-19. Salgono a 126, stando al riallineamento dei dati, le vittime finite su registro Covid dall'inizio dell'emergenza.